Di Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, Voce di Lorenzo Pieri, Capitolo III, Seconda Parte In realtà mi ero rivolto alla foresta, non al signor Kurz, che, come ero dispostissimo ad ammettere, era ormai praticamente sepolto, e per un momento mi parve d'essere anch'io sepolto in un'enorme fossa piena di segreti e abominevoli. Sentivo un peso intollerabile opprimermi il petto, l'odore della terra bagnata, la presenza invisibile della corruzione vittoriosa, l'oscurità di una notte impenetrabile. Il russo mi diede un colpetto sulla spalla, lo di borbottare e balbettare qualcosa, come fratello marinaio, non potevo nascondere la conoscenza di cose che danneggerebbero il buon nome del signor Kurz. Io aspettavo. Per lui evidentemente il signor Kurz non era già nella fossa, per lui, sospetto, il signor Kurz era uno degli immortali. «Beh», dissi infine, «parli chiaro, si dà il caso che io sia un amico del signor Kurz, in un certo senso». Dichiarò in tono molto formale che se non fossimo stati della stessa professione avrebbe tenuto la cosa per sé senza badare alle conseguenze. Lui sospettava che ci fosse un'attiva ostilità nei suoi confronti da parte di questi bianchi che, «ha ragione», dissi ricordando una certa conversazione che mi era accaduto di ascoltare. «Secondo il direttore, lei dovrebbe essere impiccato». Sulle prime, il vederlo preoccuparsi per questo mi divertì. «Farei forse meglio ad andarmene in punta di piedi», disse serio. «Ormai non posso più far niente per Kurz e loro non ci metterebbero molto a trovare un pretesto. cosa glielo può impedire? Il posto militare più vicino è a 300 miglia». «Beh, parola mia», intervenni, «le conviene davvero filare se ha qualche amico tra i selvaggi della zona». «Ne ho tantissimi», rispose. «Sono gente semplice e io, sa, non ho bisogno di nulla». Rimase un attimo immobile a mordersi il labbro. Poi, «non voglio che capiti qualcosa di male ai bianchi che sono qui, ma stavo ovviamente pensando al buon nome del signor Kurz. Lei, però, è un fratello marinaio e...» «Stia tranquillo», dissi dopo un po'. «Con me il buon nome del signor Kurz non corre rischi». Non sapevo quanto fossi sincero. Abbassando la voce, mi confidò che era stato Kurz a ordinare l'attacco contro il battello. Certe volte non sopportava che lo portassero via e poi di nuovo. «Sono cose che non capisco. Sono un uomo semplice, io. Pensava così di farvi scappare spaventati, che avreste lasciato perdere, convinti che lui fosse morto. Non riuscì a fermarlo. Oh, ne ho passati tanti di momenti terribili in questo ultimo mese». «Beh», dissi, «adesso però lui sta bene». «Sì, sì», mormorò con un'aria non molto convinta. «Grazie», dissi, «terrò gli occhi aperti». «Ma silenzio, eh?» mi incalzò con ansia. «Sarebbe tremendo per il suo buon nome se qualcuno qui...» Promisi con molta solennità la discrezione più assoluta. «Ho una canoa con tre negri che mi aspetta non molto lontano. Me ne vado. Mi potrebbe dare un po' di cartucce per il Martini Henry?» Potevo, e gliele diedi con la necessaria segretezza, e lui, strizzandomi l'occhio, si prese anche una manciata del mio tabacco. «Tra marinai, sa, buon tabacco inglese!» Arrivò sino alla soglia della timoniera, poi si voltò. «Senta, non ha per caso un paio di scarpe che non le serve!» Alzò una gamba. «Guardi!» Sotto i piedi nudi le suole erano legate con lacci di corda, pieni di nodi. Recuperai un vecchio paio che contemplò ammirato prima di infilarselo sotto il braccio sinistro. Una delle sue tasche, color rosso vivo, era gonfia di cartucce. Dall'altra, blu scuro, sbucava l'indagine di Towson, eccetera. Pareva considerarsi perfettamente equipaggiato per un nuovo incontro con la natura selvaggia. «Ah, mai più, mai più incontrerò un uomo come lui! Avrebbe dovuto sentirlo quando recitava poesie!» «Ed erano anche sue, mi disse, poesie!» Roteò gli occhi nel ricordare tali gioie. «Oh, come mi ha allargato la mente!» «Arrivederci!» dissi. Mi strinse la mano e sparì nella notte. Certe volte mi domando se l'ho davvero mai visto, se è possibile incontrare un simile fenomeno. Quando mi svegliai, poco dopo la mezzanotte, mi tornò in mente il suo avvertimento e quell'accenno a un pericolo che nel buio stellato mi parve così reale da convincermi ad alzarmi e a dare un'occhiata in giro. Sulla collina ardeva un grande fuoco che illuminava ad intervalli un angolo sbilenco della sede della stazione. Un agente, con un picchetto di alcuni dei nostri neri, appositamente armati, montava la guardia all'avorio. Ma nelle profondità della foresta, rossi bagliori, che ondeggiavano e parevano sprofondare nel terreno e di nuovo levarsi tra confuse forme colonnari di un nero intenso, rivelavano la posizione esatta dell'accampamento dove gli adoratori del signor Kurz stavano vegliando irrequieti. Il battito monotono di un grosso tamburo riempiva l'aria di colpi soffocati e di una costante vibrazione. Dal muro nero e piatto dei boschi giungeva come un ronzio di api da un alveare, il brusio ininterrotto di un insieme di uomini che salmodiavano, ciascuno per conto proprio qualche magico incantesimo, con uno strano effetto soporifero. Sui miei sensi svegli solo a metà. Credo d'aver sonnecchiato chino sulla battagliola, finché una brusca esplosione di urla, lo scoppio travolgente di una frenesia repressa e misteriosa, mi svegliò in uno stato di smarrito stupore. L'urlo cessò all'improvviso e ricominciò quel brusio in sordina, con un effetto di silenzio percepibile e rasserenante. Gettai con non curanza un'occhiata all'interno della cabina. C'era una luce accesa, ma non il signor Kurz. Penso che se avessi creduto ai miei occhi mi sarei messo a urlare, ma in un primo tempo non ci credetti. Sembrava così impossibile. Avevo i nervi terribilmente tesi da una sorda, schietta paura, da un puro astratto terrore, che non aveva alcun rapporto con forme riconoscibili di pericolo fisico. Ciò che rendeva così insopportabile questa emozione era, come definirlo, lo shock morale che avevo subito, come se qualcosa di totalmente mostruoso, intollerabile alla mente e odioso all'anima, mi fosse stato spinto addosso senza che io me lo aspettassi. Questo, naturalmente, durò soltanto una minuscola frazione di secondo, dopodiché la consueta sensazione di un concreto pericolo mortale, la possibilità di un assalto improvviso, con conseguenti massacri o qualcosa del genere che vedevo incombere. Furono letteralmente gradite e rincoranti. Mi calmarono, di fatto, al punto che non diedi nemmeno l'allarme. C'era un agente, tutto abbottonato nel suo holster, che dormiva su un asdraio del ponte, a meno di un metro da me. Le urla non lo avevano svegliato, russava piano. Lo lasciai al suo sonno e saltai a terra. Non tradì il signor Kurz. Mi avevano ordinato di non tradirlo mai. Era scritto che sarei stato fedele all'incubo che mi ero scelto. Ero impaziente di misurarmi con quel fantasma da solo. E ancora adesso non capisco come mai fossi restio a condividere con qualcuno la cupezza particolare di questa esperienza. Appena a terra vidi un sentiero, un largo sentiero nell'erba. Ricordo con quanta esultanza dissi a me stesso, non ce la fa a camminare, deve strisciare a quattro zampe, è in mano mia. L'erba era umida di rugiada. Camminavo svelto con i pugni stretti. Immagino di avere vagamente accarezzato il progetto di saltargli addosso e prenderlo a botte. Non so, avevo di questi pensieri cretini. La vecchia col gatto che lavorava a maglia spiccava nella mia memoria come la persona più radicalmente inadatta ad occupare l'altro estremo di una storia come questa. Vidi una fila di pellegrini intenti a spruzzare piombo nell'aria con i loro Winchester appoggiati all'anca. Pensavo che non sarei mai tornato sul battello e immaginai di vivere solo e disarmato nei boschi sino ad età avanzata e altre stupidaggini del genere, capite? E, ricordo, confondevo il battito del tamburo con il pulsare del mio cuore ed ero soddisfatto della sua calma regolarità. Continuavo a seguire il viottolo, ma poi mi fermai ad ascoltare. La notte era molto limpida. Uno spazio azzurro scuro scintillante di rugiada e di stelle entro il quale spiccavano immobili delle cose nere. Mi sembrò d'aver visto muoversi qualcosa davanti a me. Quella notte ero stranamente sicuro di tutto. Finì per lasciare la pista e per correre in un largo semicerchio e penso proprio che stessi ridacchiando tra me, nell'intento di finire davanti a quel piccolo trambusto, a quel movimento che avevo visto, ammesso che avessi visto qualcosa. Stavo girando intorno a Kurz come in un gioco da ragazzi. Alla fine lo trovai e se non mi avesse udito venire, gli sarei cascato addosso. Riuscì però ad alzarsi in tempo. Si levò traballante, alto, pallido, indistinto come un vapore esalato dal terreno e ondeggiò un poco, silenzioso e annebbiato, davanti a me, mentre alle mie spalle si scorgevano i fuochi tra gli alberi e dalla foresta giungeva il mormorio di molte voci. Ero stato abilissimo a isolarlo, ma quando me lo trovai di fronte, mi sembrò di rinsavire e vidi il pericolo nelle sue proporzioni reali. Non era certo passato. Se si fosse messo a gridare, lo so, faceva fatica a reggersi in piedi, ma nella sua voce c'era ancora una bella riserva di vigore. Vada via, si nasconda, disse in quel suo tono profondo. Faceva veramente paura. Mi guardai dietro. Eravamo a neanche trenta metri dal fuoco più vicino. Una figura nera si alzò e si fece avanti sulle lunghe gambe nere, agitando le lunghe braccia nere, oltre quel chiarore. Portava in testa delle corna, corna ad antilope, penso, sicuramente un mago, uno stregone. Il suo aspetto era abbastanza demoniaco. «Lei sa cosa sta facendo?» sussurrai. «Perfettamente», rispose lui alzando la voce per quest'unica parola. Mi arrivò remota e insieme fortissima come un saluto attraverso un megafono. «Se fa baccano, siamo perduti», pensai. Non era evidentemente il momento adatto ad una cazzottata, anche non considerando la mia riluttanza naturale a picchiare quell'ombra, quella cosa errante e tormentata. «Lei finirà per perdersi», dissi. «Per perdersi completamente». Capitano a volte questi lampi di ispirazione. Dissi ciò che dovevo dire, anche se era impossibile che si perdesse più irrimediabilmente di quanto già lo fosse ora, nel momento in cui gettavamo le fondamenta della nostra intimità, destinata a durare, a durare sino alla fine e anche oltre. «Avevo progetti immensi», mormorò incerto. «Sì», dissi, «ma se si prova a gridare, le fracasso la testa con...» Lì vicino non c'era né un bastone né una pietra. «La strangolo con le mie mani», mi corressi. «Ero alla vigilia di grandi cose», implorò con una voce intrisa di avidità e in un tono talmente malinconico da farti gelare il sangue. «E ora per quella stupida canaglia!» «Il suo successo in Europa è comunque assicurato», affermai con decisione. «Non volevo che mi costringesse a strangolarlo, capite? E del resto, sul piano pratico sarebbe servito ben poco. Cercai di spezzare l'incantesimo, il muto opprimente incantesimo della foresta, che pareva attirarlo al proprio seno spietato, svegliando in lui istinti brutali e dimenticati, richiamando alla sua memoria mostruose ed appagate passioni. Soltanto questo, nero persuaso, lo aveva spinto oltre il ciglio della foresta, nella boscaglia, verso il bagliore dei fuochi, il battere dei tamburi, il ronzio di incantamenti misteriosi. Soltanto questo aveva deviato la sua anima di fuorilegge, oltre i limiti delle aspirazioni autorizzate. Ma, vedete, ciò che rendeva paurosa la situazione non era la possibilità di prendersi un colpo in testa, anche se ero perfettamente conscio di questo pericolo, ma il dovermi misurare con una creatura a cui non potevo appellarmi in nome di alcunché, superiore o inferiore. Dovevo, proprio come i negri, invocare lui, lui in persona, la sua eminente e incredibile degradazione. Non c'era niente, né sopra né sotto, e io, lo sapevo, si era liberato a calci della terra. Quel maledetto aveva fracassato la terra a calci. Era solo, e io, davanti a lui, non sapevo se stavo con i piedi piantati per terra, o se fluttuavo nell'aria. Vi ho raccontato le cose che ci dicemmo, ho ripetuto le frasi che pronunciammo, ma a che serve? Erano parole comuni, quotidiane, i vaghi suoni familiari che ci scambiamo ogni giorno nella nostra vita. E allora avevano dietro, a mio modo di vedere, la terrificante forza evocativa, delle parole udite nei sogni, delle frasi pronunciate negli incubi. L'anima. Se qualcuno ha mai lottato con un'anima, quello sono io, e non che stessi discutendo con un pazzo. Mi crediate o no, la sua intelligenza era assolutamente lucida, concentrata, sì, su se stesso, con orribile intensità, ma lucida. Ed era in questo la mia unica possibilità, a meno che, naturalmente, non l'avessi ammazzato lì per lì, ma non sarebbe stato molto opportuno, a causa del rumore inevitabile. Era però pazza la sua anima. Sola in quella foresta, aveva guardato dentro di sé, e per il cielo, credetemi, era impazzita. Io pure, a causa dei miei peccati, immagino, dovetti subire il tormento di guardarci dentro. Nessuno sfoggio d'eloquenza avrebbe potuto distruggere la fede di un uomo nell'umanità, più di quella della sua ultima esplosione di sincerità. Lottava anche con sé stesso, lo vidi, lo udì, vidi il mistero inconcepibile di un'anima che non conosceva né freno né fede né paura, e che pure lottava alla cieca con sé stessa. Mantenni piuttosto bene il mio sangue freddo, ma quando riuscì finalmente a farlo distendere sul divano, mi asciugai la fronte e mi sentì tremare le gambe come se avessi portato sulla spalla giù da quella collina un carico di mezza tonnellata. E sì che lo avevo semplicemente sorretto, con il suo braccio ossuto, stretto intorno al mio collo, e non pesava molto più di un bambino. L'indomani a mezzogiorno, quando partimmo, la folla della cui presenza dietro quel sipario di alberi, ero stato intensamente consapevole per tutto il tempo, rifluì di nuovo dai boschi, riempì la radura, coprì il pendio di una massa di corpi nudi, ansanti, vibranti, bronzei. Io risalì un poco il fiume, poi virai seguendo la corrente, e duemila occhi seguirono le evoluzioni di quel guazzante rumoroso, vibrante demone fluviale, che batteva l'acqua con la sua terribile coda, e soffiava fumo nero nell'aria. Davanti alla prima fila lungo il fiume, tre uomini, impiastricciati di terra rossa dalla testa ai piedi, camminavano avanti e indietro irrequieti. Quando tornammo alla loro altezza, si voltarono verso il fiume, pestarono i piedi, abbassarono le loro teste cornute, fecero ondeggiare i loro corpi scarlatti. Agitavano verso il feroce demone fluviale, un mazzo di penne nere, una pelle rognosa con la coda penzoloni, qualcosa che sembrava una zucca lasciata seccare. A intervalli gridavano tutti assieme sequele di stupefacenti parole, che non assomigliavano ad alcun suono del linguaggio umano, e i mormori profondi della folla, bruscamente interrotti, parevano risposte a qualche satanica litania. Avevamo portato Kurz nella timoniera, c'era più aria lì. Sdraiato sul divano, guardava oltre la persiana aperta. Si aprì in quella massa di corpi umani una sorta di mulinello, e la donna con i capelli a casco e le guance brune si slanciò in avanti spingendosi sino al ciglio del fiume. Poi allungò le mani, gridò qualcosa, e la folla scatenata riprese il suo grido in un coro tumultuoso di suoni articolati, rapidi, ansanti. «Lei capisce cosa dicono?» domandai. Kurz continuò a guardare oltre me, con quegli occhi feroci e avidi, con una espressione in cui la malinconia si mescolava all'odio. Non mi rispose, ma vidi aleggiare un sorriso, un sorriso dal significato indefinibile sulle sue labbra spente, che un attimo dopo si contrassero convulse. «Come no!» disse lentamente, boccheggiando come se le parole gli fossero state strappate da qualche potere sovrannaturale. Tirai la corda della sirena, e lo feci perché avevo visto, sul ponte, i pellegrini tirar fuori i fucili con l'aria di chi già pregusta una parentesi d'allegria. L'ululato improvviso produsse in quella massa compatta di corpi una bietta reazione di terrore. «Non lo faccia! Non li faccia scappar via spaventati!» gridò qualcuno sul ponte in tono sconsolato. Tirai più volte la corda. Si sbandarono e scapparono, saltavano, saccovacciavano, si scostavano, schivavano il terrore volante di quel suono. I tre dipinti di rosso erano finiti lunghi distesi sulla spiaggia, con la faccia a terra come se qualcuno avesse loro sparato. Solo la donna, barbara e superba, non batte ciglio, e tese tragicamente le braccia nude verso di noi, sul fiume cupo e scintillante. Poi quella massa di imbecilli sul ponte cominciò a spassarsela, e io non vidi più niente per il fumo. La corrente marrone fluiva veloce dal cuore di tenebra, portandoci verso il mare ad una velocità due volte superiore a quella del viaggio d'andata, e anche la vita di Kurz scorreva via rapida, defluendo, defluendo dal suo cuore nel mare del tempo inesorabile. Il direttore era calmissimo, adesso non aveva più preoccupazioni vitali, ci includeva entrambi in una occhiata comprensiva e compiaciuta. La faccenda si era risolta come meglio non avrebbe potuto desiderare. Vedevo avvicinarsi il momento in cui sarei rimasto l'unico superstite del partito dei metodi sbagliati. I pellegrini mi guardavano con disapprovazione. In un certo senso ero ormai annoverato tra i morti. Era strano da parte mia accettare questa associazione imprevista, questa scelta di incubi che mi era stata imposta nella terra tenebrosa, invasa da fantasmi aridi e spregevoli. Kurz concionava. Che voce, che voce! Risanò profonda sino all'ultimo. Sopravvisse alle sue forze per nascondere nelle pieghe sontuose dell'eloquenza la tenebra sterile del cuore. E lottava, o se lottava, le lande del suo cervello stanco erano abitate da immagini fantasmatiche, immagini di ricchezza e di fama, che ruotavano ossequiose, intorno al suo talento inestinguibile per l'espressione nobile ed elevata. La mia promessa sposa, la mia stazione, la mia carriera, tali erano gli argomenti di queste occasionali manifestazioni di sentimenti eletti. L'ombra del Kurz di un tempo frequentava il capezzale del vuoto ciarlatano, destinato a sepoltura imminente nel terriccio della terra primordiale. Ma l'amore demoniaco e l'odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato, si stavano battendo per impadronirsi di quell'anima sazia di emozioni primitive, avida di fama menzognera, di distinzione fasulla, di tutte le apparenze del successo e del potere. A volte era spregevolmente infantile, desiderava vedere dei re ad aspettarlo nelle stazioni ferroviarie, al suo ritorno da qualche luogo imprecisato e terrificante, dove contava di compiere grandi imprese. Mostra loro che hai in te qualcosa di veramente redditizio e non ci saranno più limiti al riconoscimento delle tue capacità, diceva. Naturalmente bisogna avere dei motivi, dei motivi giusti, sempre. I lunghi tratti, che erano come un unico e medesimo tratto, le anse monotone, che erano sempre esattamente uguali, scivolavano via dal battello con gli innumerevoli alberi secolari, che seguivano con occhi pazienti, questo sudicio frammento di un altro mondo, preannuncio del cambiamento, della conquista, del commercio, dei massacri, delle benedizioni. Io guardavo avanti, pilotando. Chiuda l'imposta, disse un giorno cursa all'improvviso. Non sopporto di guardarla. Obedì, ci fu una pausa. Oh, ma ci riuscirò a strapparti il cuore, gridò alla foresta invisibile.